Signore e signori, Sensi in Movimento presenta Amici sbevazzoni, ecco un aggiornamento del video sui solfiti pubblicato nel giugno 2021. L'argomento è certamente importante e sentito da tutti noi e il numero delle visualizzazioni mostruoso lo certifica. Ma ovviamente perché stiamo parlando della nostra salute. Andiamo quindi subito a vedere gli aggiornamenti, cosa è successo negli ultimi tempi relativamente all'argomento solfiti. Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale naturalmente, gesto per voi facilissimo e gratuito, per me importantissimo. E proprio per questo motivo voglio darvi un incentivo. Chi si iscrive e me lo indica via mail all'indirizzo info-sensi-movimento.it riceverà gratuitamente la mia pubblicazione in formato pdf Le parole del vino, il vocabolario del perfetto Sommelier. Un compendio di oltre 190 vocaboli tradotti e esplicitati per riuscire a capire a 360 gradi il linguaggio appunto del mondo del vino. E chi non si iscrive è un astemio. Aù, mi stava a scordare? Il roccambolesco e impervio approvvigionamento di bottiglie di solaria ionica vendemmia 1959, 1959 è andato ancora una volta a buon segno, ancora sei bottiglie di solaria recuperate. Vino unico, vino straordinario, vino da meditazione, anzi da medicazione dell'anima, assolutamente integro e intenso. Ecco qui di seguito una breve scheda di presentazione di questo nettare. Chi desiderasse entrare in possesso di una bottiglia di solaria ionica? Mi può scrivere all'indirizzo info-sensimovimento.it Allora, innanzitutto facciamo un brevissimo recap, come si dice adesso, cioè un riassunto del video precedente. Numero uno, i solfiti sono delle molecole composte da ossigeno e zolfo e vengono generalmente utilizzate come additivi per conservare. Sono di fatto principalmente degli antisettici e antiossidanti. Due, vengono usati ampiamente nell'industria alimentare, quindi li troviamo in molti prodotti come la frutta secca, i crostacei, i salumi, l'aceto e molti altri. Ecco a tal proposito i codici a livello europeo che identificano i solfiti utilizzati negli alimenti e indicati negli ingredienti presenti nelle relative confezioni. Ancora, nella produzione del vino si usa prevalentemente l'anidride solforosa detta solforosa, CO2, che permette al vino di mantenere più o meno inalterate nel tempo le sue qualità organolettiche. Attenzione però, i solfiti sono classificati come allergeni, quindi possono comportare rischi di vario genere per la salute, soprattutto se si è allergici a questi composti, o più in generale se si è colpiti da intolleranze alimentari e ipersensibilità. Quindi, in Europa, il loro utilizzo è stato normato nel 2005. Il vino contenente più di 10 mg litro di anidride solforosa, dice la legge, deve indicare in etichetta la dicitura contiene solfiti. Scelta normativa certamente discutibile, quantomeno. Dato che nella fase produttiva del vino la fermentazione alcolica produce già spontaneamente dai 10 ai 30 mg litro di anidride solforosa, a seconda della famiglia dei lieviti che viene impiegata. Quindi, di fatto, tutte le bottiglie di vino hanno la dicitura contiene solfiti. La legge quindi non permette a noi consumatori di distinguere i reali quantitativi di solforosa in una bottiglia di vino, e questo è decisamente un problema. Aggiungo anche che la solforosa prevede dei limiti massimi per l'utilizzo della SO2, limiti che si differenziano in base alla tipologia del vino, bianco, rosso, passito, se da agricoltura biologica o no. Vedi la scheda qui di seguito. A questo punto aggiungiamo un elemento importante. Abbiamo quindi visto che tutti i vini contengono solfiti, ma a volte troviamo nell'etichetta di un vino la dicitura senza solfiti aggiunti. Oltre a quella obbligatoria, contiene solfiti. In più, che cosa significa? È un'indicazione non obbligatoria per la legge che aggiunge il singolo produttore di sua volontà per dirci che in quello specifico vino ci sono solo i solfiti prodotti naturalmente dalla fermentazione alcolica, ma lui non ne ha aggiunti, non ne ha utilizzati altri. Questa indicazione è certamente molto interessante per noi consumatori, anche se i vini di questo genere non sono così facilmente reperibili, soprattutto nei supermercati. Ad esempio li troviamo spesso nei cosiddetti vini naturali. Lascio il link qui sotto in descrizione del video che ho realizzato su questo argomento. Però anche in questo caso dobbiamo stare attenti a due cose. Se il vino con questa dicitura senza solfiti aggiunti è particolarmente economico, cioè di fatto sotto i 4 euro, è certamente un vino industriale. Quindi è molto probabile che abbia subito almeno una pastorizzazione e spesso anche massicce dosi di acido ascorbico e probabilmente anche tannini aggiunti, perché qualche sostanza dovrà pure proteggerlo se non sono appunto stati utilizzati i solfiti. E questa cosa non è bellissima. Numero 2. I vini con questa dicitura? È da sapere questa cosa. Tranne rarissime eccezioni, sono più fragili, sono meno protetti, quindi durano meno. Quindi nella media vanno consumati più rapidamente. Vale poi la pena aggiungere a questo punto un piccolo dettaglio, un filino più tecnico per i più curiosi e per gli esperti. Ovviamente il vino non è una semplice miscela di acqua e alcol etilico o etanolo. È una soluzione estremamente complessa, costituita da centinaia e centinaia di composti, tra i quali gli acidi, gli antociani, i tannini, gli zuccheri e molti altri, che poi donano al vino le mille sfumature soprattutto olfattive e gustative. Questa miriade di componenti presenti nel vino stazionano, diciamo così, in esso in un equilibrio piuttosto instabile, come ben sappiamo, che si altera con la temperatura, la luce, l'umidità, eccetera. Alcuni di questi componenti, alcune di queste molecole, talvolta si legano all'anidride solforosa e quindi le sottraggono il suo potere protettivo, antisettico, antiossidante, eccetera. Con l'ovvia conseguenza che quella che rimane attiva per proteggere il vino, quella solforosa che rimane attiva, si riduce di quantità. Ecco quindi perché si parla di solforosa libera, quindi è quella che rimane e che è ancora in grado di attaccare i microorganismi e agire per esempio come antiossidante. E poi naturalmente c'è l'altra che viene detta solforosa combinata, che quindi ha già agito sui composti dannosi e si è legata, soprattutto con l'ossigeno e l'acetaldeide, diventando di fatto inattiva. Ha già fatto il suo lavoro. Sommando queste due frazioni, quindi la solforosa libera e la solforosa combinata, si ottiene la solforosa totale. Questa informazione potrà esservi particolarmente utile quando siete al cospetto di un produttore di vino che spesso parla il suo gergo tecnico, cioè questo, e che quindi molte volte appare incomprensibile. Non più da oggi. E quindi, finita la parentesi del piccolo chimico, vale la pena sottolineare a questo punto che i solfiti in ogni caso non sono il demonio in persona. Hanno funzioni enologiche determinanti, importanti e preziosissime nella realizzazione di un vino di qualità. E quindi la loro, chiamiamola così, dannosità dipende dalla quantità utilizzata. È la dose che fa il veleno. E infatti, ad esempio, ci sono molte, molte, chiamiamole accortezze, che il produttore attento e scrupoloso, sia in vigna ma soprattutto in cantina, può utilizzare per diminuire, ridurre l'utilizzo della solforosa. Ad esempio, vendemmie delicate, che evitano la rottura degli acini, e quindi la fuoriuscita del succo, e quindi l'innescarsi di fermentazioni indesiderate, o permettere lo sviluppo di microrganismi dannosi. Naturalmente è importante vendemmiare uve sane, senza muffe, senza marciume. Anche le basse temperature dell'ambiente in cui avviene la vinificazione sono molto importanti. Aiutano a ridurre la proliferazione di batteri dannosi, prevalentemente quelli acetici. Ecco perché poi si tende a vendemmiare nelle prime ore della mattina, soprattutto nelle zone molto calde, e talvolta l'uva viene raffreddata in celle frigorifere, prima di essere lavorata. È altrettanto importante utilizzare, se si necessita, di gas inerti, come l'azoto, l'argon, il ghiaccio secco, e insomma tante altre. La tecnologia negli ultimi anni ha fatto passi da giganti, ed è venuta proprio in supporto dei vignaioli per permettere di lavorare l'uva nel modo più pulito e più delicato possibile. Ecco perché consiglio sempre di acquistare vini di qualità. I produttori validi lavorano sempre in questo modo, e quindi avremo vini con ridotte quantità di solforosa al loro interno. Ecco diciamo che tutto ciò naturalmente non basta per eliminare totalmente la solforosa. Esistono dei casi, ma sono davvero rari. L'abbiamo detto poco fa. Detto ciò ne va fatto quindi un uso ragionato. Quindi alla domanda ma questo vino quanti solfiti contiene? E' chiaro che non si riesce a dare una risposta certa, nemmeno orientativa se non si parla direttamente col produttore. Anche perché oltretutto dal punto di vista sensoriale, la SO2 è praticamente in odore e in sapore. Quindi di fatto impossibile da sgamare una volta aperta la bottiglia. E allora quindi amici sbevazioni, concludiamo con la fatidica domanda. Ma questi solfiti, come si dice da sempre, fanno venire mal di testa quando sono utilizzati in grandi quantità? E in effetti per molto tempo sono stati i principali indiziati per l'emicrania, il mal di testa da vino. Metto qui sotto il link in descrizione del video recentemente realizzato proprio su questo argomento. Però va anche detto che recentissime ricerche li scagionano. O meglio, non si esclude del tutto la loro azione dannosa nel nostro organismo, ma nemmeno si riesce ad accertare con certezza la loro colpevolezza. Certamente difficile che abbiano riflessi nel breve termine, ovviamente parlando di soggetti non sensibili a questa sostanza, perché se no è ovvio che danno fastidio a chi ne è allergico. Di fatto studiarne le reazioni sul nostro organismo è complicatissimo, perché tutti interagiamo con i solfiti quotidianamente. E quindi in conclusione cito una frase del grande Gino Veronelli Un quadro può essere rivisto, una musica può essere riascoltata, mentre un vino, quel vino, bevuto in quel momento, è irripetibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.